Dedicato alle madri della tradizione ebraica che sono rispettate e ammirate perché custodi di quell'identità dedicato alle matriarche alle lavoratrici nei ghetti alle partigiane dedicato alle donne perseguitate dal nazismo e costrette per amore a lasciare mariti o compagni non ebrei è sempre esistito un modo ebraico di essere donne fatto di generosità, coraggio determinazione è un modo antico quanto della salvezza dell'umanità viene da quel modo di essere donne dall'animo femminile del mondo la capacità di conservare e proteggere una fiammella una luce contro la morte e la distruzione a queste madri amanti mogli compagni dedichiamo questi canti e queste parole a queste madri Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501